Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code tra l'allacciamento con la 11 e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Dalle 20 alle 24, per lo svolgimento di una manifestazione religiosa nel piazzare antistante allo svincolo di Monte San Savino, questo svincolo sarà chiuso in entrata e in uscita. Sulla strada regionale 302 Brifichellese Ravennate, fino al 30 settembre senso unico alternato per il restringimento della carreggiata a chilometro 15 e 980 circa nel comune di Vaglia. Per la viabilità cittadina a Firenze in Viale Belfiore, fino al 28 settembre sarà chiuso il tratto compreso tra il numero civico 6C e il numero 4 alla fine del controviale. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!